Tutte pazze per il maculato! Vi presentiamo 5 look con la stampa più cool del momento. Look 1, capo principale di questo outfit è sicuramente il pantalone white leg leopardato di Vicolo a cui abbiamo abbinato un body semitrasparente, la nostra borsina in raso con le piume e un sandaletto col tacco. Questo look numero 2 per chi non vuole passare inosservato abbiamo questo tagliore maculato di contatto composto da giacca e pantalone abbinato ad una canottina nera con questo scollo simmetrico ballerina ai piedi e borsetta con i dettagli argento. Con il terzo look vi mostriamo questa gonna, modello sottoveste in viscosa a cui abbiamo abbinato t-shirt basic bianca, blazer, over e le nostre ballerine con i cinturini e le borchette borsa in pelle intracciata. Focus di questo quarto look è il pantalone misto viscosa lino di tensione a cui abbiamo abbinato top con dettaglio di bottoni, ciabattina in pelle e borsa in rete. Quinto e ultimo look, questo abito t-shirt con collo giro e mezza manica abbinato a un gilet oversize mistolino con reverse allato, stivale biker in vera pelle e borsina a spalla intrecciata. Queste erano le nostre 5 proposte a tema maculato, fateci sapere il vostro preferito nei commenti, vi mando un bacio, alla prossima!